Sembrava impossibile e invece ce l'abbiamo fatta. Nella complessità di un frangente così delicato per il paese, il Movimento 5 Stelle è riuscito a portare a termine i suoi stati generali. È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle. E ancora una volta, prosegue il post, lo ha fatto in maniera innovativa, partendo dal basso. In 8.000 persone hanno partecipato alle 170 riunioni per mille ore complessive di lavori, che hanno composto il Corpus degli Stati Generali Movimento 5 Stelle. 8.000 persone che hanno dedicato tempo ed energia per fare il punto sul Movimento e per guardare avanti, creare prospettive, dar forma a una visione. 170 riunioni dislocate in tutta Italia, in cui uno è valso uno. L'attivista quanto il ministro, il sottosegretario quanto il portavoce comunale. Uno di fianco all'altro, virtualmente, ad ascoltare, confrontarsi, anche serratamente, su regole e principi. Organizzazione del Movimento e agenda politica del post-Covid, hanno sottolineato i 5 Stelle.